E' per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione io resto a casa. Saranno quindi da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti a meno che non siano motivati da tre specifiche circostanze. Comprovate ragioni di lavoro da casi di necessità o anche per motivi di salute. Aggiungiamo in questo provvedimento anche un divieto degli assembramenti all'aperto in locali aperti al pubblico. Non ci possiamo permettere più queste occasioni di aggregazioni che diventano occasioni di contagio. Credetemi non è facile. Sono pienamente consapevole della responsabilità e anche della gravità nell'adottare queste misure per tutta la penisola ma sono costretto a intervenire in modo ancora più deciso. Sicur- Grazie a tutti.